Ristorante cinese e giapponese Bawoki, vieni a trovarci in via Madonnina 28 a Pinerolo all'interno del centro commerciale Polared Chiamaci allo 0121 202 069 oppure per info e prenotazioni 339 948 0850 Trovaci sul sito internet www.ristorantebauoki.it o scrivici una mail a ristorantebauoki.gmail.com Ristorante cinese e giapponese in via Madonnina 28 a Pinerolo